Signori bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2, reminchia Allora signori, intanto ci tenevo a ringraziarvi perchè comunque c'è qualcuno di voi che segue la serie Minchia ste cose mi gasano raga, non so se mi gasano un botto perchè comunque Ho sempre detto che comunque io questi video li faccio principalmente per me, a me piace farli, no? Li devo giocare per i cazzi miei, tanto vale che li registro così Però è vero anche che mi tolgono un mare di tempo, ma perchè tra la registrazione E' l'editing no? Dove vi tolgo tutte le parti morte e quant'altro Con quel tempo lo perdi ed è anche tanto Comunque nell'episodio precedente ci siamo salutati che siamo morti malissimo E uno di voi tra l'altro nei commenti mi aveva consigliato di togliere Cioè mi aveva detto che comunque si poteva togliere il calcio alla Matilda E io l'ho tolta perchè così mi consuma uno E poi quel calcio ti faceva semplicemente sparare i tre colpi in più Ma è una cosa che non mi serve e quant'altro Comunque eravamo morti da due leaker Eh proprio l'abbiamo presa in culo, avevamo fatto un po' di cose Io adesso ho fatto un po' di cose ma non sono arrivato esattamente dove sono morto Quindi ci riandremo insieme Il problema è che non mi ricordo dove cazzo sono morto Ma al di fuori di questo un'altra cosa che ho pensato di fare E' di portarmi dietro il lanciafiamme Perché? Perché penso, forse se non sbaglio Che quelle specie di zombie insomma fatti d'erba si rialzano Quindi quando noi spariamo insomma quei cosi di pus giallo che hanno Poi loro comunque si rimarginano E si rialzano di nuovo E forse il modo per eliminarli definitivamente è il lanciafiamme Quindi bruciarle Volevo fare un tentativo Sì No no mi prendo un morso Ah non è un morso E sono morto E niente ci vediamo nel prossimo episodio No no sto scherzando sto scherzando Fortunatamente avevo salvato prima di fare sta grande minchiata Ma se vuoi dire scusa Non muore con il lanciafiamme Voglio fare un test Tanto ho salvato Quindi bene o male sono qua Voglio fare un test Vediamo se muore definitivamente Eh bisogna vedere se ora Allora di morto è morto Bisogna vedere se però E' ancora vivo No lo sto muovendo io Ma mi sa che è vivo Eh si guardalo Devi bruciare Madonna Oh 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 Ora è morto Ok quindi possiamo Aspè perché comunque Va bene va bene va bene così Allora ho capito ho capito Quindi noi possiamo Possiamo bruciarli Possiamo atterrarli con la pistola E poi li bruciamo Ed è sicuro che non si rialzano Questa penso sia la tecnica migliore Bene Possiamo testare le nostre teorie incredibili Tanto spero che il volume sia giusto Spero un colpo a caso Perfetto Abbiamo preso quindi di nuovo la Matilde Allora quindi io faccio tipo Così Ah lei va a sta mano di merda Madonna di colpi Lo sto sprecando Due Prendi la mira Stai fermo Eh bravo diglielo Ok lui cade a terra Io prendo il lanciafiamme Lo brucio Ma brucia Eh mi sa che non brucia Ok Così non si dovrebbe rialzare più Sta cosa Sembrerebbe uno spreco Però da qui Che c'è una save room Questo qui Ci romperà i coglioni Capito Qui abbiamo già attivato La cosa che sapevamo Già qual era il primo codice Per la botola Qui dovrebbe essercene un altro Quindi facciamo la stessa operazione Che abbiamo fatto prima Perché qua è pieno Di sti robi qua Qua li dobbiamo eliminare Capito Brucia E mi sa che è l'unico modo Tra l'altro Voglio vedere se si alza O brucia Prima o poi Devo ferirlo Fin quando brucia Ma dai Ignifugo Cazzo Ok Almeno è sicuro Che ce li siamo tolti Dal cazzo Bene Qua c'era qualcos'altro Ecco chi c'era Ma va cagato Perfetto Io passo tra le fiamme Come se non ci fosse un domani Ok Raga Bello Bello Ce lo siamo tolti Dai coglioni Quindi qua Sapevamo Dall'episodio precedente Che questa strada Da questo lato È bloccata Da entrambi i lati Quindi sia se passiamo da qui Sia da qui Sia dal centro Unico Ah ce n'è un altro Vabbè poi lo eliminiamo Per adesso scendiamo E ricarichiamo Le La pistola Però a sto punto raga Sprechiamo La Matilda È più forte Questa qui che abbiamo Proprio Prende pure più facilmente La mira Meglio la Matilda Poi una merda Allora noi qua siamo Non si sa dove All'au Ok qua c'è una porta Che va di qui Dove siamo Ok qua ci vuole Penso Il braccialetto Ah qua siamo morti Ah vabbè dai Siamo arrivati più o meno Dove eravamo Nell'ultimo episodio Perfetto Qua è dove siamo morti È stato molto breve Arrivare qui Bene Colpi pompa Stracomodi Abbiamo dieci colpi pompa Qua dobbiamo andare piano Ci sono i leaker Quindi Questi qui si rialzano Vero questi si rialzavano Quando sono andato lì Qua raccogliamo un trofeo Molto strano A forma di DNA Non ti alzare Figlio di puttana Questo qui non ho mai capito Che cazzo è Urf Ah non lo so Cosa ci vorrà Penso troveremo Il giusto oggetto È una centralina elettrica Bene Qui tornerei volendo indietro A salvare Assicurarmi Che non ci esplodo male Ok E quest'aria è pulita Quindi torno indietro A una botta Mi elimino pure lo zombie Che ci abbiamo sopra Così almeno facciamo le cose Per bene Senza evitare Che ritorniamo al punto di partenza Anche perché comunque Abbiamo il trofeo Che sotto Esaminandolo Nell'episodio precedente Abbiamo visto che c'è un altro codice Da aprire lì Vedi che non si sono alzati Questi qui Sono proprio morte E tra l'altro Sprecando Non lo so Forse Una quarantina Cinquantina di carburante E brucia Oh raga Bello Bello Conveniva fare sta roba Allora Adesso che siamo di nuovo In questa stanza Se noi esaminiamo Questo trofeo Sotto C'ha un codice Quindi scalini Linea Cubetti E linea più grossa Allora Abbiamo detto Scalini Linea Che era questa Cubetti E linea più grossa Dovrebbe essere questo Il codice Ma suo padre Cado Abbiamo aperto Questa stanza qui Ah Porca puttana Cosa abbiamo aperto Aspetta Intanto salviamo Che qua abbiamo La safe room della vita Vedi che non si rialzano più E' proprio stecchito qua E questo è un bene Perché queste cose qua Al contrario degli zombie E si rialzano Da qui in poi E' tutto nuovo Vi ricordate Tra l'altro Nell'episodio precedente Che abbiamo scoperto Insomma Che per prendere Quel bracciale lì Bisogna bruciare Vedi Tutte queste piante qui E ci vuole Un erbicida Che si mette qua Noi abbiamo il contenitore Che abbiamo preso Bene Su questo laboratorio C'era qualcosa di chiuso Che adesso in teoria L'abbiamo sbloccato E dovrebbe essere Il coso Per creare L'erbicida Vedete Io qui in teoria Metto il contenitore Modalità manuale Attivata Eh Aspetta Aspetta E qua che cazzo Ne so io Pianta 43 Posizionare il contenitore Vuoto Aggiungere la quantità Necessaria E raffreddare E raffreddare Immediatamente Vediamo se faccio Così di nuovo Eh no Ma è sempre Quello No Eh vabbè Penso sia questo Eh no Supero il limite Eh Un po' un bordello Qua Come cazzo Funziona Poi riempio Un altro po' di qua Poi riempio Questo Ok Cos'è successo Raffreddo immediatamente L'ho fatto L'ho fatto Ok Abbiamo il contenitore La soluzione Perfetto Eh Esaminiamo Vediamo Contenitore soluzione Un contenitore per disperdere Vari soluzioni nella serra Contenitore soluzione liquida Bene Però qua ancora mi dice che c'è qualcosa Ma cosa cazzo c'è Io qua ho raccolto una granata E qua non mi sembrava che c'era qualcosa Ah C'erano dei colpi Ah no E minchia Strautile La polvere da sparo grande Ok Adesso possiamo mettere il contenitore Ed è un bene Solo che questa cosa ci sbloccherà sicuramente quest'aria qui E io vorrei esplorare per bene Quest'altra aria qua Che era quella dove siamo morti nell'ultimo episodio Vorrei vedere un pochino Cazzo si trova Speriamo che non ci sia Godzilla Questa c'erano i leaker Qua è arrivato il bordello Qui ci manca il braccialetto identificativo Che noi non abbiamo Questi zombie sappiamo che si alzano E io infatti eventualmente ho una stordente Perché tanto qui non dobbiamo tornarci Eh ci sono diciamo due porte A meno che usiamo il pompa e ce li togliamo tutti dai coglioni Ok Solo che c'era il leaker Ok Perché qua ha troppi zombie E quello si alza pure Però già tre zombie Ce li siamo tolti dai coglioni definitivamente Col pompa Fin qua Madonna Ah ma mi attacca direttamente Oddio mi sono cacato Corri Oddio Oddio Sono ciechi Però Hanno un buon olfatto Eh lo sa che sono qui Sono troppo vicino Eh no Si deve levare dei coglioni Eventualmente ho la stordente Quasi quasi eliminarli Sti leaker qua Possono essere un problema I leaker E qua che non bisogna farsi prendere dal panico Vedete Perché lui quando gli passa vicino Fa sto movimento Ma perché sente l'odore E comunque cieco E camminano lentamente Qua ci vuole il braccialetto Se questa è chiusa Sono nella merda Ma ho la stordente Lodo Con calma Con calma Molto bene Ma non il braccialetto Ah è già blu Ok si è salvato Che l'avevamo a livello 2 C'è uno zombie dietro Ah Io lo sentivo Che c'era qualcuno Delle scale Mamma mia Il panico No ho ricaricato la Matilda Vabbè Quello lì cade Sicuro Appena sarò qua Tipo infarto Te lo fanno Vedete Aiuto all'esostero È vivo Che culo Critico pure con la pistola Ce la stiamo giocando di lusso Raga Perché comunque questi zombie Sono troppo in una strada Che faremo spesso Dai le scale Ah c'è uno zombie Ah perché è tutto collegato Qua È uno Sì Oh ma che culo Dai Polvere da sparo Di alta qualità Che se combiniamo Con questa qui Abbiamo 5 colpi pompa E abbiamo recuperato Tutti i colpi pompa Che abbiamo sprecato Colpi per la pistola Schifo non ci fanno Nota di qualcuno Chi è? Non lo sappiamo Qualcuno Sono tutti mutati Sono diventati delle piante Continuano a tornare Ancora e ancora Bruciamoli tu Guarda Lo sapevo Che ero intelligente Io Chi l'avrebbe mai detto Bruciamoli finché i loro corpi Non diventeranno cenere Non c'è altro modo E questo qui è un chiaro indizio Che per eliminare Quelle zombie pianta Dobbiamo bruciarle Io ci ero arrivato Prima della nota Però molto utile Che il gioco comunque Te lo dice Modulatore di frequenza Sarà per sistemare Gli altri pannelli Qui quindi Che avevamo visto Space Che cazzo devo fare Devo allinearle Ma devo Cioè Non lo so Magari non qua forse Sì non qua Però vabbè Sappiamo che in queste altre cose Minchia Ne ho uno dove ci sono i leakers Raga Quelli li devo eliminare Stordente Spariamo Più di questo Vorrei salvare Oh questa mi sa che In modo Ci siamo aperti un passaggio Che culo Guarda dove siamo Dai Questo gioco è proprio fantastico È proprio fatto bene La Matilda Pazienza Sette colpi Ma la posiamo E ci teniamo qua Il contenitore Che sappiamo dove metterlo E quant'altro Salvataggio tattico Proseguiamo Allora intanto Abbiamo il contenitore Che va messo In questa stanza Poi possiamo accedere A questo computer In teoria Che è di sicurezza Livello 3 Ma ti avevo bruciato Oppure posato il lanciafiamme Eh madonna Stai lì con un solo colpo Un attimo Ma non c'è modo Di fare il lanciafiamme Il combustibile Non lo fai con la polvere Da spara Vabbè ci mancherebbe Ci mancherebbe Abbiamo pure tutti gli spinotti Abbiamo manopola Abbiamo un bordello di roba Penso che ci passeremo Di nuovo dalle fogne Eh mi devo riprendere Il lanciafiamme Per forza Perché Se no questo qui Ce lo ritroviamo lì Adesso Andando avanti così Vedi ce n'è un altro Che prima non c'era Che rottura di coglione Eh dobbiamo bruciarlo Fiamme diventa cenere Il problema sono i 120 Eh di carburante Che mi rimangono E anche questo È bruciato Però è sicuro Che questo qui è un altro Perché l'altro è lì Ok Eh quindi qua che Se ne creano altri Ma io in ogni caso Se qua ce n'è qualcuno Facciamo una roba Per sicurezza No vabbè Non c'è nessuno Niente la mia idea era Che se c'era qualcuno Siccome stiamo adesso Buttando noi l'insè L'erbicida Magari moriva anche lui Capito Quindi lo facevamo spawnare Per non farlo spawnare dopo Però non c'è Eventualmente Figlio di puttana Evidentemente Va bene Mettiamo il contenitore Con il coglione Che cazzo è successo Errore La temperatura della soluzione È oltre i limiti Minchia Bella minchiata È oltre i limiti Devo raffreddarla Ma per raffreddarla Eh Devo riandare sotto E abbiamo quel coso Per aprire Le centraline Mamma mia Ci sono due liquor Da far fuori Vaga Qua è dura In teoria Dovrebbero volerci Quattro colpi a liquor Centrati bene però Fuori una No 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 Ok 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 Calma Ho spiegato più colpi del dovuto È morto Mamma mia Di cacarello Qua potevamo farlo meglio Onestamente Però dai Cinque colpi di pompa Sembrano pochi Ma in teoria Sono comunque Cinque zombie Ma due liquor qua No Due liquor qua No raga Comunque Questo è il Coso di frequenza Quindi se io uso questo Che cazzo mi significa Eh sì Ok Esamina Devo andare qua sul murf Ma come cazzo si ci va Eh adi E scambia Ah è murf Perfetto Così Quindi te lo inserisco così Godo Ho acceso l'elettricità Anche io se giro una zombie C'è qualcuno che si è alzato Era qui che serviva la corrente Se si attiva con la corrente Sì Dove siamo Stanza server Polvere da sparo di alta qualità Magari ci facciamo colpi pompa Tra l'altro qua C'è qualcosa Cos'è? Ah carburante Eeeh Cento di carburante Beh è una save room Ma godo poco io Pure un coltello Guarda qui Ok non c'è più niente qua Bene 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 Qualche cosa di utile abbiamo preso Posiamo il coltello nuovo Dovremmo avere della polvere da sparo noi Ecco Eppure tanta Allora io prenderei quella grande Per fare 5 colpi pompa Mentre Quest'altra Potremmo farne altri 3 Volendo Oppure fare dei colpi pistola Oppure starci buoni Anche oggi Ci gira di lusso Stiamo facendo una run Con i controcazzi Io ci tengo ancora a ringraziare Tutti quelli che stanno seguendo Questa serie qua Fa piacere comunque che vi piace Appena terminiamo questo E finisco alcuni giochi Che ho ancora in sospeso Facciamo il 3 pure Il 3 Ma volendo anche l'1 Potremmo farci Resident Evil 1 Bello Ok questa si apre pure Qua siamo Nel laboratorio Test basse temperature Penso che sarà qui Che dovrò raffreddare il liquido Allora Ha una torcia? No Leon Non ti fa schifo Qua non c'è nulla 100 euro che si alza Topa e dottor Ci sono 5 nuovi messaggi 5 nuovi messaggi Posta di Wenley Mittente Rock Mendoza Oggetto che sta combinando Sai che ha fatto quello stronzo di Gart 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 Cart Cart Come cazzo Vabbè Giovanni A quel pezzo di merda Servi una camomilla Beh è lui il capo Per ora Ehi Hai visto Ah è lui il capo Per ora Mica me non so leggere Hai visto il mio trofeo Per caso Il codice è nascosto sulla base Se lo trovi dimmelo Ah beh qua ci indicava Del codice E così proprio Non ce l'hai fatta a venire E va bene Non preoccuparti Dell'ispezione della serra Te lo do io Qualcosa di semplice da fare Calcola il budget Stimato per l'anno successivo Al prossimo E fallo Entro stanotte Sei vivo Siamo sotto attacco Ci sono un sacco di morti L'area est è isolata Non possiamo attivare Il ponte con i nostri braccialetti Con i nostri braccialetti Inca con i mostri Ma dove cazzo Si è nascosto Quello strozo di Cartwright Chiamato anche Giovanni Rispondi La pianta 43 Fuori controllo La serra è un inferno Dobbiamo mandarci qualcuno Prima che sia troppo tardi Wayne Come fermiamo questo macello Devi aiutarci Rispondi Ma penso che Wayne È già morto Che è quello che abbiamo trovato Nell'inceneritore con Ada Ti ricordi di Susy La cheerleader Che bella ragazza Piaceva a entrambi Ma ovviamente non era interessata a due nerd Devo ancora restituirti i fumetti e i giochi che mi avevi prestato Credo che dovrei aspettare ancora Va a cagare Lo sapevo Mamma mia quanto è brutta Eh ma devi morirci però Eh che due coglioni Eh Ecco Vabbè gine Se hai le palle Lo sapevo che si alzava Va a cagare E comunque qua ancora c'è qualcosa da prendere Non so cosa Ma c'è C'è qualcosa Per forza Deve esserci Il problema è dove Madonna mi sono cagato Si è aperta la porta Eh io ho capito che ti incazzi Però Ecco Fallo prima un critico Leon Ma niente Qua mi dice che c'è qualcosa Ma Vabbè Entriamo qui Ok Ah ma è la stessa zona Ok Chi ha lasciato il freezer aperto Questo quindi questo è congelato Bene Qua c'è qualcosa Ah qua penso raffreddiamo il liquido Aspetta Diamo un'occhiata Polvere da sparo Godo Questo potremmo evitarlo Se si alza C'è ancora qualcosa Comunque vediamo Mettiamo il contenitore Ok Quindi lo sta raffreddando Ah è stato proprio velocissimo Ok 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 Contenitore erpicida Oh Ok Raffreddamento completato Vai a cagare Ok qua non c'è più niente Quello sicuramente si alzerà O comunque se non si alzava questo Si alzava quell'altro Da questo lato qua Questa ragazza qua Meno male che non l'abbiamo uccisa Ce la siamo tolti dai coglioni E quindi Ce la facciamo easy Bene A sto punto Dovremmo aver fatto tutto Tranne Tranne Per l'erpicida Che possiamo metterlo No ci ricolleghiamo a quell'altro Aspetta aspetta un attimo Aspetta un attimo Perché come l'altro qua dove c'è la scala C'è ancora qualcosa da prendere Spalati un kit Non eravamo messi benissimo Ma da un po' Sparta che stai soffrendo Leon Colpa mia C'era qualcosa C'è qualcosa qua Non sappiamo dove Ma c'è Forse da questo lato Eh esatto Cosa ho dimenticato Ma guarda C'era la mappa Ma vaffaculo Lo stiamo trovando i proiettili Ma stiamo trovando la polvere da sparo Che è meglio Perché combinata per esempio Facciamo Trenta Trenta colpi per la pistola Ok Adesso possiamo mettere finalmente Questo contenitore Vediamo che cosa succede Vai Cos'è Vaporizzazione Ah ok In corso Ok Guardalo lì Eccolo il braccialetto livello 3 Ok So che prenderlo sarà un casino Guardiamo un attimo la mappa Eh Di quasi Ah ok Penso che abbiamo fatto tutto Eh mi sa di sì Attenzione Soluzione pericolosa Dispersa Aspetta Senza autorizzazione Vabbè vai a cagare un attimo Aspetta E B2 Qua abbiamo altre porte da aprire no 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 Ho fatto tutto Siete stati monitorati E sarete soggetti A misure disciplinari Oh vai a cagare A misure disciplinari Tanto qua c'è Godzilla Guarda questo Questo non è bruciato Questo è vivo Eh questo dottore Guarda com'è morto Questo è ancora sano Chip elettronico Oh No Dai Dai Porca puttana raga Facciamo il giro da sotto Saliamo dalle scale Figlio di puttana Di un tyrant Non muore mai Abbiamo spregato il coltello Vabbè dai Minima cosa Speriamo che qua Non si siano alzati i leaker Aspetta aspetta Qua c'è una save room Lui qua non entra Lui qua non entra Salva salva Gioia mia salva Fammi vedere Io ho polvere da sparogrande Di alta qualità Potrei fare altri colpi Paoppe Allora adesso noi In teoria Possiamo accedere Aspetta qualche medicinale Me lo porto dietro Adesso noi Possiamo accedere Al computer Che c'era Nella prima stanza Il problema onestamente A parte che ora c'è questo qui Ma che si sono alzate Si è alzata tanta gente In quell'area qua Quest'area qua Il problema è proprio quello Quindi adesso noi Ma è qua Adesso noi dobbiamo stare Molto attenti Vabbè sai che abbiamo salvato Quindi siamo comunque più tranquilli No di qua mi chiudo Devo andare di qua Salire le scale Ed evitare quel posto L'unica cosa che mi preoccupa È che ci sia lui Subito qua E non mi Pare che non abbiamo Manco stordenti Eh che due coglioni Devo stare attento Al tyrant Mentre brucio Dai Ok Qua c'è la centralina Le scale E la porta che si apriva Che dovrebbe collegarci Direttamente Alla safe room Godo Godo come un porco Perché ci siamo evitati Tra l'altro un casino Di zombie qui Il rischio Il rischio era altissimo E possiamo accedere Al computer Con il braccialetto Ok Posta di Barion Cartwright Chiamato Joanne Oggetto Priorità alta Sicurezza elevata Da quando il nest È diventato un covo di spie Tre solo lo scorso mese E altre quattro questo E sono solo quelle Che abbiamo individuato Migliori la sicurezza Cartwright O vuole fare la fine Del suo predecessore Inoltre da oggi Limiterò l'accesso Nell'area ovest Ignori qualsiasi richiesta Di informazioni Su G Che sarebbe il virus Dal quartier generale Quei colletti bianchi Non hanno Non danno comunque Alcun contributo A questo progetto Oggetto Attenzione Accesso non autorizzato Rilevata dispersione Erbicida Nell'area est Da dipendente Non autorizzato Ah ma siamo noi Questo Che l'abbiamo appena fatto Ok ma quindi Solo delle informazioni Vabbè a noi qua Non ci interessa un cazzo Perché in teoria Da qui possiamo uscire E intanto salviamo Da qui noi possiamo uscire Andare nell'area Questa qui E accedere direttamente All'altro ponte Dove ci voleva Il braccialetto Quello lì In teoria Possiamo accedere A quest'area qui Ma ovviamente Come ogni cosa Ha bisogno di tempo E questo tempo Lo troveremo Nel prossimo episodio Quindi signori Io vi saluto E vi ringrazio Soprattutto per il supporto Alla serie Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Non iscrivetevi al canale Se non lo volete fare Andate a fanculo Se ci volete andare Non ci andate Se non ci volete andare Alla prossima Alla prossima